Ingegner Dini, nel suo intervento lei ha parlato della valorizzazione della proprietà intellettuale e sostanzialmente prima i brevetti erano strumenti di tutela, ora soprattutto per l'industria italiana possono diventare addirittura opportunità di sviluppo. Sì, è vero perché il brevetto oltre a proteggere il prodotto di chi l'ha inventato sul mercato è un metodo ad esempio per ottenere dei revenue dandolo in licenza a qualcuno che non è un mio competitore sul mio mercato. L'esempio tipico, a me non interessa il mercato americano, ho però un brevetto concesso negli Stati Uniti posso trovare in America chi sviluppa il mio prodotto lo vende e mi paga delle royalties per l'uso del mio brevetto. L'economia italiana si trova in una situazione particolarmente difficile. La difesa della proprietà intellettuale e soprattutto la sua valorizzazione può costituire un'opportunità proprio di sviluppo? Assolutamente sì, perché in una realtà economica come l'Italia bisogna fare qualcosa per produrre un valore aggiunto poi da ridistribuire fra tutti e quindi pensare solo di fare piccole nicchie di mercato non è possibile dare da lavorare a tutti. Invece sviluppando concetti innovativi soprattutto legati al nostro standard di vita che per ora è ancora superiore a quello dei cinesi possiamo immaginare prodotti più belli, più user friendly eccetera che possono avere successo sul mercato mondiale e di qui con la brevettazione io blocco l'idea e chi la vuole utilizzare in qualche modo mi deve pagare quindi io posso pensare a una società che punta prodotti high tech con ricercatori che sviluppano idee veramente creative e poi ottenere una ricompensa attraverso l'uso di queste idee da parte del mercato globale. L'invenzione è un colpo di genio che può venire a chiunque, a chi mette tanti ricercatori insieme per studiare o anche a piccola realtà, poi bisogna ricordarsi che noi italiani siamo famosi per la nostra creatività adesso oggi questo è un esempio banale ma il concetto della vaporiera, dello stantuffo mosso dal vapore che faceva muovere le locomotive è stato inventato da un certo Popen vedendo bollire la pentola dell'acqua sul fuoco perché il coperchio spinto dal vapore si alzava. Oggi non è più così semplice fare invenzioni senza avere una conoscenza approfondita della tecnica però l'invenzione è un lampo creativo e il lampo può venire a chiunque.